Martedì dopo il risultato del voto in Umbria, una riunione romana del Movimento 5 Stelle tra i parlamentari, consiglieri regionali e il capogruppo politico Luigi Di Maio ha deciso che in Emilia Romagna non si farà l'alleanza con il PD, anche se una parte del Movimento sarebbe ancora disponibile al dialogo. Sì, le valutazioni erano varie, ma la maggioranza di chi era presente, ma anche dalle voci che abbiamo raccolto dal territorio, è quella che il Movimento 5 Stelle deve correre da solo perché le sue proposte sono ancora alternative a tutti e ha una visione di qui al 2030 della nostra regione che è diversa dagli altri. Esclusa l'ipotesi circolata nei giorni scorsi di non presentare la lista del Movimento per le regionali, è iniziato un percorso sul territorio per aprirsi ad eventuali alleanze con liste civiche. Nei prossimi giorni vedremo il territorio in tutte le province per valutare insieme anche se ci sono possibilità di parlare e fare un percorso insieme a delle liste civiche o a dei candidati civici. Dopodiché, verso metà novembre, ci incontreremo di nuovo con il capo politico per fare le valutazioni finali. La scelta del candidato quindi è ancora in alto mare? Ancora deve arrivare. Il percorso solito, classico, è quello delle regionarie su Rousseau, in cui ognuno si candida e poi viene selezionato, ma il percorso con le liste civiche potrebbe aprire anche qualche scenario nuovo.